Spunta anche l'ombra della faida tra famiglie che da molti anni non si sopportano dietro l'incendio scoppiato questa notte in una palazzina di Borgonovo gestita dall'acere in via Don Gnocchi. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, si sono scatenate attorno alle quattro in uno scantinato. A fuoco sono andati uno scooter e quattro biciclette. I residenti hanno visto il fumo denso invadere gli appartamenti. Allarmati sono scesi in strada e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Castel San Giovanni che hanno lavorato fino alle 7.30. Una donna e il figlio sono stati portati all'ospedale perché leggermente intossicati. Parcialmente inagibili i locali degli appartamenti che più direttamente confinano con il locale andato in fiamme. Saltata per qualche ora anche la corrente elettrica. Sul posto anche i carabinieri per indagare sull'accaduto. L'incendio è partito dallo scooter e sembra molto accreditata l'ipotesi del dolo. I militari stanno seguendo anche questa pista, comunque difficile da dimostrare, per spiegare quanto accaduto stanotte. Pare addirittura che una delle famiglie che risiedono nello stabile avesse mandato una lettera proprio all'acer dicendo di sentirsi minacciata da alcuni vicini. Sembra inoltre che nei mesi scorsi fossero arrivate ai carabinieri segnalazioni e addirittura denunce da parte delle persone coinvolte nella disputa condominiale che prosegue ormai da molto tempo.